Un saluto a tutti voi, i presenti e coloro che sono in rete. Era davvero bello sentire tutto quello che voi rappresentavate e nello stesso tempo si responsabilizzava anche tutti quanti noi a svolgere un certo comportamento assolutamente positivo. Io invece, ahimè, parlerò dell'aspetto assicurativo, cioè che succede nel momento in cui invece c'è qualche incidente, abbiamo parlato degli incidenti, quello che sia. Parlerò per esempi, parlerò per esempi perché INAIL ragiona in questa maniera, ha dei parametri molto specifici su determinate cose quando accadono e quindi qual è poi l'atteggiamento che viene riconosciuto meno, a parte l'aspetto positivissimo di seguire questo comportamento. Perché parte proprio in questa maniera questo titolo? Questo è un frammento di un corso molto più ampio che insieme a Polizia Stradale, Associazione Vittime della Strada porta un po' in giro in Italia. Partiamo da un caso specifico. Un giorno di mattina, per ripercorrere quello che è successo a un nostro collega, che era un camminatore. Parlo del passato perché purtroppo non è più qui con noi, perché c'è stato un incidente, un incidente importante, proprio su Viale Oceano Atlantico, questo qua vicino, ormai era arrivato. Parte la mattina, parte con i mezzi pubblici, arriva alla fermata Eurofermi e percorre il tratto di strada a piedi. Durante l'attraversamento pedonale, proprio qui vicino, avviene questo momento tremendissimo. Tremendissimo perché, nonostante sia sulle strisce pedonali, viene investito da un mezzo, la vita a volte che cos'è? Cioè qualcuno che stava andando al lavoro, anche lui stava andando al lavoro, in quel caso lui camminando è la persona che l'ha investito con un mezzo privato. L'impatto è violentissimo, è talmente grave che il 118 ritiene di non portarlo immediatamente qui all'ospedale più vicino, Roma 2, quindi stiamo parlando del San Deugenio, ma era necessaria un'equipe pluridisciplinare perché le fratture, oltre che multiple, c'erano emorragie in più parti, quindi bisognava immediatamente portarli in un altro luogo, in quel caso si stava andando al San Camillo, purtroppo muore durante il percorso. Perciò è una situazione un po' particolare, però questo non deve significare che noi non dobbiamo seguire, può succedere, ma voglio dare intanto un altro messaggio di speranza. Gli incidenti, io purtroppo o per fortuna seguo INAIL e gli infortuni dal 1996, per un motivo e per un altro in tutta la mia attività professionale, in qualche maniera mi ha seguito, almeno questo segmento professionale, posso raccontare che sono davvero pochi gli incidenti che avvengono, ecco camminando, rispetto a quello che siano in maniera elevatissima, sempre nel segmento che parliamo, vale a dire infortuni in itinere, mezzo privato, moto, auto. Quindi, insomma, può succedere, ma insomma è basso l'incidenza. In Ispra, per esempio, frequenza del periodo 2008-2017, sono soltanto intorno all'8%, questa tipologia di incidenti dovuti a infortuni correlati al punto durante la deambulazione classica. Il grosso è soprattutto per il 84% sugli incidenti stradali, durante il percorso. Che cosa succede? Quindi, giusto perché magari non è il tema, ma vado velocemente, per capire un po' Inail, quando però lo riconosce l'infortunio o meno, perché dico subito quello che era successo poi con il collega, in prima battuta Inail non aveva riconosciuto l'infortunio. Cioè l'aveva in prima battuta declassato a un incidente classico, cioè malattia. Successivamente, con ulteriori approfondimenti, è avvenuto. Perché? E quindi per raccontare un po' la situazione. Perché il nostro collega, il primo dubbio che si erano posti, è ma se c'è una navetta che mette in campo Ispra da Eurofermi al posto di lavoro, come mai non l'ha utilizzata? È stato semplice però evidenziare la cosa e superarla, vale a dire, il nostro collega mediamente si presentava intorno 7, 7 e un quarto, era quella la fascia che timbrava in Ispra. Quindi essendo un orario tale che sostanzialmente era molto, diciamo così, diluita la frequenza, non c'era sostanzialmente la navetta con così frequente presenza, Inel, è riportato in un ambito infortunistico. Infortunistico perché ovviamente la cifra che poi vanno a liquidare è elevatissima e voglio dire subito e scansare dai dubbi una cosa. Attenzione, Inel è un ente pubblico ma il ragionamento è uguale a quello di un'assicurazione, con la differenza che un'assicurazione obbligatoria. In questo caso racconto quello che succede quando c'è un infortunio con decesso ma bene o male sono tutti quanti le tipologie alla stessa maniera. Quello che è importante è quello di correlare l'evendo all'occasione di lavoro. C'è uno dei primi dubbi che vengono posti in essere da parte degli esaminatori ma era correlato o meno all'occasione di lavoro perché vi racconterò rapidamente dopo che succede. Se mentre mi sto spostando subisco una rapina ma io sto andando al lavoro ho un problema di altro genere, inciambo sulla strada oppure altri problemi di questo genere. Giusto un flash per dire che per esempio per il caso di Ispra in particolare non è il soggetto assicuratore esclusivamente Inel ma per coloro che sono giornalisti e praticanti giornalisti il soggetto di riferimento è l'IMPG che è una particolarità perché l'IMPG ha assorbito anche le funzioni di Inel. Quindi soltanto per dire molto rapidamente bisogna correlare l'occasione di lavoro in un ambito più ampio vale a dire non semplicemente sto lavorando, sto istruendo la pratica no, in maniera più ampia è successo un certo passaggio è avvenuto un determinato evento correlandolo all'occasione di lavoro e poi lì c'è questa graduazione che direzione centrale prestazioni Inel dando istruzione alle varie sedi Inel poi accetta, non accetta e riconosce appunto l'invortunio. Quindi ecco perché io riportavo questo aspetto l'invortunio di itinere rapidamente che non è soltanto questo del camminare ma anche quando ci si porta con i mezzi propri i mezzi pubblici, quello che sia in effetti è un istituto nuovo il testo unico dell'assicurativo che quindi che gestisce che sovrintende all'assicurazione obbligatoria il 1124 siamo coetanei siamo tutti e due del 1965 mentre il decreto legislativo 38-2000 è quello che ha introdotto dopo tutta una serie di eventi e effetti giuridici giurisdizionali veramente perché è stata la giurisprudenza poi che l'ha posta in essere quasi obbligandoli a introdurre questo aspetto dell'invortunio in itinere l'invortunio in itinere che è in linea generale la definizione poi è sempre questa durante il normale percorso di andata e ritorno da luogo di abitazione a quello di lavoro cioè più breve e diretto questa sentenza della Cassazione 2015 come se avessero fatto un ripasso hanno rimesso un po' tutto quanto questa sezione unite lavoro sezione unite no lavoro lavoro ne ha fatto un'altra che poi dirò del 7 settembre 2015 la 17-85 ripercorre un po' tutto quando e quando dice più breve e diretto più breve e diretto allora quando non ci siano situazioni particolari o necessitate perché dico particolare a necessità necessitate perché quando ci sono delle deviazioni ci sono delle deroghe quindi tendono necessitate le interruzioni è vero che magari il percorso più vicino ma se c'è una buca io non è che ce devo passare in mezzo alla buca chiaramente posso spostarmi c'è un problema di carattere fisiologico posso deviare evidentemente c'è un incidente quindi c'è un obbligo poi ad intervenire e quindi ci sono degli obblighi penalmente rilevanti e quindi c'è questo prestare soccorso a vittime e via dicendo quindi vengono valutate tutte queste cose dice ma oi boh quante cose succedono allora quando c'è un incidente o un qualche cosa del genere quante cose che bisogna valutare sì perché in effetti la cosa che cos'è un infortunio è assimilabile a un lambo un attimo se una frazione di secondo prima non c'è nulla una frazione di secondo dopo succede è una cosa particolarmente importante a differenza quello che è la malattia professionale che invece è come dire una stratificazione di eventi che portano poi a quello che si esplicita poi in una appunto una malattia sempre riconosciuta dall'Inail e in questo caso cosa andiamo a dire poi? andiamo a dire semplicemente quello che è l'evento a raccontarlo all'Inail ma l'Inail poi andrà a fare queste valutazioni che andremmo a dire quindi andiamo un po' su alcune specificità oltre al caso che avevo raccontato che per esempio è ritornata a essere infortunio ma proprio per la rappresentazione dell'evento per come si era determinato cioè la navetta non poteva essere utilizzata o altro mezzo pubblico non poteva essere utilizzato e comunque necessariamente si andava a piedi perché si riusciva a dimostrare che comunque la frequenza la tempistica era tale per cui era comunque conveniente l'involvimento di tira e quindi estensiona tutela assicurativa agli eventi occorsi durante il percorso interrotto e deviato per accompagnare i figli a scuola e questa è stata una novità quanto dicevo il fatto prima necessitato perché loro badano molto a questa distanza vicinissima e il percorso a piedi quindi uno dice ma caro Pirrone ma mo' mi stai raccontando tutta sta storia e l'incomincia a spaventarmi allora andare a piedi no perché sostanzialmente Inail dice a parità di mezzi diciamo di locomozione quello delle proprie gambe è quello più agevolato tanto che se si mette a confronto il camminare rispetto al mezzo per una distanza che è relativamente breve Inail non riconosce l'infortunio se lo ha avuto sul motorino o sulla macchina non intensizzabile l'infortunio itinere con mezzo proprio altro mezzo di locomozione se è possibile il percorso a piedi in tempi ragionevoli e su questo c'è stata una sentenza della Cassazione quella di prima ce n'è stata un'altra successiva che l'ha posto in evidenza e dicevamo che però copre tutto no per esempio non copre il fatto doloso del terzo riconducibile a rapporti personali tra l'aggressore e la vittima io sto venendo però in ufficio subisco un infortunio perché lo penserei tale mi ha spinto sono cascata a terra perché mi stava prendendo la borsetta la Cassazione ha detto di no e allora qua dobbiamo velocemente introdurre un altro concetto che in medicina legale e nel rapporto assicurativo viene fuori che quello loro lo chiamano tecnicamente rischio elettivo mo che sarà elettivo dice periodo elettorale no rischio elettivo è sostanzialmente quello che comunemente potrebbe avvenire a prescindere dal fatto che tu debba o non debba fare una cosa cioè andiamo sul caso pratico se io sto percorrendo una strada e sostanzialmente è bella segnalata e in un attimo di distrazione io mi sono girato e vado a finire dentro la buca in effetti inel dice eh no è vero che tu stavi andando magari non ci saresti andato proprio quel giorno in quel percorso di strada perché in effetti se stavi andando al lavoro magari non ci pensavi proprio di venire a via brancati però dovevi utilizzare le accortezze classiche che si suol dire e a questo punto viene tra virgolette sanzionata come declassando l'infortunio in malattia cioè dette in due parole l'infortunio viene riconosciuta e diventa una malattia classica e quindi questo discorso è l'occasione di lavoro e quindi giusto altri due momenti e dopo passa ad altri perché sennò diventa troppo triste non mi piace questa cosa un dipendente che nel percorso che nel percorso il tre città a piedi lungo una ordinaria via di comunizzazione aperta al pubblico transito e senza trasportare strumenti di lavoro capaci di apportare squilibri nel cammino che ha da terra ecco se io porto qualcosa come strumento di lavoro inel sicuramente dice di sì diversamente si fa tutti questi pensieri e via dicendo e ha negato l'indenizzo questo c'è stato questo caso così come ce n'è un altro che voglio dire dopo subito e chiudo qui cosa copre inel sostanzialmente in alcune zone non le copre assolutamente mai e vale a dire quanto io esco da casa varcato il portone di casa e dice ma io ormai sono fuori casa no tutte le aree che sono pertinenziali o che siano di proprietà da parte di un terzo quindi del condominio di un complesso residenziale l'ina il non le copre l'ina il non le copre e dice è un problema deve avviare un percorso di responsabilità civile verso terzi quindi verso il soggetto là dell'area privata solo e soltanto se quelle invece una via privata ma una via privata che non è stata tra virgolette ancora portata a rango pubblico nel senso che ormai è così sostanzialmente frequentata praticamente da tutti per cui in questa maniera viene utilizzata ricordiamoci che è un'assicurazione uguale potrei andare avanti ma mi fermo qui perché sono molto più interessanti sicuramente gli interventi che seguiranno e quelli che mi hanno preceduto un felice prosieguo una riflessione sull'intervento è questa così come è stata per l'aspetto dello spostamento casa lavoro in bicicletta cosa è avvenuto poiché l'INAIL è un'onte pubblica è un'assicurazione quello che si deve modificare per avere un contesto favorevole a una mobilità più sostenibile sono anche le condizioni normative e l'applicazione di tale norma quindi mettere in moto un meccanismo simile a quello del riconoscimento dell'incidente in itinere come riconoscimento della bicicletta come mezzo necessitato ora siccome ci sono i dati ambientali e della salute che ci dicono quali sono i parametri minimi per camminare siccome li conosciamo è possibile dire a questo punto quali sono i tempi ragionevoli quali sono le distanze questo è quello che si dovrebbe fare a un livello più generale e di normativa e il secondo piano sarebbe quello che ha detto Piacentini prima che ha detto tante cose però fondamentale e viene fatto in altri paesi è quello di dare degli incentivi economici effettivamente a chi sceglie di muoversi a piedi in bicicletta e questo va ribadito perché anche se di difficile diciamo recepimento ma è uno degli obiettivi è uno degli strumenti per poter spingere a scelte di mobilità più sostenibile passo ora la parola a questa seconda ultima parte noi mostreremo un paio di strumenti per la mobilità pedonale uno di rilevamento degli itinerari di chi si sposta a piedi e anche delle informazioni che si possono trarre da questi itinerari il secondo è uno strumento di calcolo ai fini di comunicazione della riduzione delle emissioni di calcolo di calcolo